Si è celebrato ieri a Castelpedroso nel vicino Molise il 136esimo anniversario dell'apparizione della Madonna della Dolorata, un luogo di culto che raccoglie ogni anno migliaia di fedeli provenienti dall'Italia e dall'estero. Anche ieri il casertano era presente in massa nella suggestiva Basilica minore di Castelpedroso, presente anche tutte le massime autorità politiche civili e religiose per un evento che forse non ha uguali in Italia per un centro così piccolo. La storia del santuario di Maria Santissima Dolorata inizia il 22 marzo del 1888, giorno in cui la Vergine apparve per la prima volta. Due contadine del luogo erano alla ricerca di una pecorella smarrita quando una delle due si trovò di fronte una visione celeste. Nel bagliore della luce si riconosceva l'immagine di Maria Santissima Dolorata, semi incinocchiata, con ai piedi il figlio morto, lo sguardo rivolto verso il cielo e le braccia allargate. Da Castelpedroso è tutto, Lorenzo Applauso e Vincenzo Mezzullo per casertasera.it